Salve e bentornati su Viraltop Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto super grazie, in basso al video. Detto questo, mettetevi comodi. Perché oggi, in Viraltop, andrà in onda un nuovo appuntamento riguardante le presunte attività paranormali catturate in video. Ci tenevamo a ricordarvi che non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo alla veridicità dei video che vi mostreremo di seguito, ma lasciamo a voi spettatori decidere se essi siano veritieri o meno. Buona visione. Diamo il via alla compilation di oggi, con un video pubblicato dal canale Solo Paranormal. Nel video, vediamo un uomo di nome Vittor Perez, il quale, mentre ispezionava un'enorme miniera abbandonata, all'improvviso sentì uno strano urlo. Guardiamo insieme cosa è riuscito a catturare. Dopo aver notato che le cose in casa si muovessero da sole, Elisa Whedon decise di installare delle telecamere di sicurezza, senza immaginare che avrebbe catturato un qualcosa di terrificante. Dobbiamo ricordarci che Elisa vive da sola nella terra. L'appartamento. Quindi cosa pensate che sia? Un intruso o uno spettro? Una coppia americana, da un po' di tempo, sta vivendo un qualcosa di abbastanza strano. Il tutto è iniziato, con alcuni strani segni apparsi sui loro corpi, ed una serie di sogni, nei quali venivano portati in una specie di sala operatoria, circondati da ombre. Alcuni giorni fa, hanno iniziato a sentire dei rumori fuori casa, ma quando sono usciti per controllare, si sono imbattuti in questo che vi stiamo mostrando. Osservate con attenzione. Maggi? Maggi? Oh my god. Maggi? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Do you see anything? No, I don't see anything. Heard close. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. It's hard. Oh my god. Continuiamo ora con due video inquietanti, catturati dalle telecamere di sicurezza. In questa occasione, nel filmato si può vedere una figura umanoide, che sembra materializzarsi dal nulla, per poi sparire nel buio. Allo stesso modo, una situazione simile è stata catturata in un altro luogo. Pensate che si tratti di una vera apparizione spettrale o solo di un effetto delle luci? Questo video, condiviso tramite TikTok, mostra la terrificante avventura vissuta da un ragazzo all'interno di casa sua. Come possiamo vedere, ogni volta che spegne la luce, appare una figura, che scompare quando la riaccende. Cosa ne pensate? La Winchester Mansion è uno dei luoghi più temuti e famosi nell'ambito del paranormale. Questa enorme proprietà è stata protagonista di molti dei video che abbiamo condiviso qui sul canale, in quanto secondo la storia, era la casa di una vedova, che dopo la morte del marito, iniziò numerosi restauri per far costruire, scale e corridoi che non portavano da nessuna parte. Questo venne fatto per intrappolare i fantasmi che volevano vendicarsi, per essere morti a causa delle armi costruite dal signor Winchester. Guardiamo cosa è stato catturato in questa occasione, all'interno della Winchester Mansion. osserviamo. Sì, sì. Chiudiamo la compilation di oggi con un video che ha come protagonisti un gruppo di amici che passavano il tempo raccontandosi storie horror. Quando all'improvviso, alle loro spalle, accadde un qualcosa di inspiegabile. Osserviamo. Questo è tutto per ora amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook. Entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.